Grande festa ed eventi indimenticabili per il decennale del brand Dolce & Gabbana. I due stilisti hanno scelto la Sicilia, terra natale di Domenico Dolce, originario di Pulizia Generosa, paese delle Madonie, per una serie di eventi che hanno incantato migliaia di turisti, giunti per l'occasione. Domenica è stata la volta di Marzamemi, piccolo borgo di pescatori. Tra luci, scenografie, tramonto mozzafiato, a cui ha avuto luogo la sfilata di circa un'ora, trasmessa in diretta streaming su Instagram. I modelli hanno indossato, oltre agli abiti molto ricercati e rigorosamente ricamati a mano, anche maschere impreziosite da pietre preziose e luccicanti. Presenti in loco moltissimi volti noti, da Monica Bellucci a Sharon Stone. E proprio quest'ultima è stata letteralmente travolta dalle tradizioni a noi vicine. Ad animare il borgo, infatti, sono state invitate ed hanno presenziato associazioni folcloristiche di Mistretta, di cui fanno parte anche moltissimi nicosiani, come il fisarmonicista Michael Rizzo. Presenti i giganti di Mistretta, appartenenti al Comitato Festeggiamenti della Madonna della Luce, presidente Paolo Trincarelli, l'assessore allo sport e spettacolo del comune di Mistretta, Massimo Melidone, e diversi componenti del Centro Studi e Ricerche di Canti e Balli Popolari Gruppo Folcloristico a Mastra. Costituito nel 1994 a Mistretta per iniziativa di Angelo Scolaru e Patrizia De Caro, proprio con la finalità di far conoscere e possibilmente apprezzare le tradizioni della Sicilia e soprattutto le tradizioni ed i costumi del Paese. La nostra associazione Centro Studi a Mastra, insieme al Comitato della Madonna della Luce di Mistretta e il Comune di Mistretta, siamo stati invitati a partecipare a un importantissimo evento, quello organizzato da Dolce e Gabbana, per al Magzamemi, per i dieci anni di alta moda. Siamo stati invitati per partecipare con le nostre tradizioni e con i nostri giganti e con le nostre danze del gruppo Folche. Ha riscosso un notevole successo, infatti abbiamo fatto ballare diversi vip, di cui quella più importante, Shero Stone, di cui ha danzato la nostra talantella. Quindi noi siamo molto soddisfatti di aver fatto conoscere a tutto il mondo le nostre tradizioni e di aver dimostrato che la nostra Sicilia è ricca di cultura e di tradizioni. Il gruppo folcloristico ha preceduto la sfilata e successivamente ha accolto più di 700 volti noti, prima della cena organizzata nella nota piazza di Marzamemi.